Mi chiamo Elisa Cassani e sono responsabile amministrativa e contabile della ditta B&D di Lugo di Ravenna. B&D nasce nel 2007 dalla costituzione di un consorzio tra la ditta Baie e la ditta EMP, due affermate aziende locali. B&D si occupa di impianti elettrici, sia civili che industriali, la realizzazione e progettazione di macchinari industriali e prototipi, impianti idraulici e negli ultimi anni anche a 360 gradi di quelle che sono le energie rinnovabili. Sono entrata in questa azienda tre anni fa, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria. Conoscevo già l'azienda perché qui avevo svolto per due anni lo stage scolastico e in questo periodo ho avuto la possibilità di farmi conoscere e intraprendere una relazione professionale e personale con il mio titolare e con i miei colleghi. Mi occupo principalmente dell'ambito amministrativo e contabile e anche della gestione del personale della ditta B&D e delle due consociate Baie e EMP. Per quanto riguarda il futuro, sia a livello personale che aziendale, spero che potremo continuare su questa strada e continuare a svolgere le nostre attività in modo proficuo e soprattutto personalmente spero di poter crescere, accrescere le mie capacità e di ottenere man mano sempre più autonomia decisionale e professionale.